L'Orella Puccarini è ancora la più amata dagli italiani, almeno a giudicare dalla folla a corsa a Zestina di Roma per la prima del suo nuovo musical, Il Pianeta Proibito. Tanti gli spettatori paganti, ma tanti anche gli ospiti VIP. Il curiosito, forse, fa la scena al più otto dello spettacolo, in cui L'Orella affari senza veli, con indosso solo una chitarra elettrica. Nel parterre ci sono l'ex velina Mora Roberta Lanfranchi, in una delle rare uscite pubbliche insieme al fidanzato Emanuele, la bionda Paola Barale in compagnia di alcuni amici e la vulcanica Eva Grimaldi. Poi il pippo nazionale, il vincitore di X Factor 3 Marco Mengoni e la trionfatrice della scorsa edizione dell'isola dei famosi Vladimir Luxuria. E ancora, l'attore Beppe Querello, la bionda Sabrina Ghio e Raph in compagnia della moglie Gabriella Labate. A fine spettacolo, tanti applausi per la Cucarini, che si conferma essere una delle showgirl più complete del panorama italiano.